Eyo bella raga, oggi è domenica quindi significa match day Oggi giocheremo contro l'Andratese che è nella parte bassa della classifica Però questo non conta nulla perché noi siamo bravi a metterci in difficoltà in qualsiasi momento Dobbiamo stare concentrati e mancano con questa partita solo tre altri match Per riuscire a lottare per andare ai playoff Niente, vediamo come andrà la partita, ci vediamo al campo Ed eccoci ritrovati qui in una nuova giornata di campionato Oggi si affronteranno Real Sanfermo contro Andratese Squadra di casa, modulo nuovissimo, mai provato Giocherà con un B in porta, difesa a tre con Caste, Mitch e Nico Centrocampo a cinque sugli esterni, dice Eliuk in mezzo al campo io Dome e Armando e davanti giocheranno Ucche e Tia Come ho detto formazione praticamente nuova Perché siamo anche in difficoltà numerica diciamo E quindi il mister ha deciso di fare questa formazione Occhio qui perché Real Sanfermo alla prima azione Va subito vicinissima al gol Con questo bellissimo 1-2 tra Tia e Dice Che poi il portiere para e niente di che Andratese come vi ho detto all'inizio video È in fondo alla classifica però questo non significa mai niente Perché guardate la Juve o l'Inter sono andati a perdere contro il Monza Che comunque appena salita dalla Serie B Ma niente da dire al Monza Riprendiamo la partita Con Mitch che prova questo lancio Però il difensore riesce a spazzare via La palla arriva al loro capitano Che appoggia E poi viene chiusa l'azione Però occhio qui Lo scatto sempre del capitano su Caste Scivola E blocca il pallone con due gambe Infatti poi l'arbitro fischia trattenuta da parte del loro nove Punizione per la squadra di casa Qui andrà a battere la punizione Nico Come al solito raga Perché batte veramente delle punizioni bellissime Come questa Che è lunga Cerca il centrocampista di spizzare Due volte La palla rimane ancora lì Dice Ancora dice Perde palla La recupera l'Andratese Con questo lancio del numero 7 per il 9 Però ancora Caste Che riesce a chiuderlo benissimo E poi spazza Però la palla ancora all'Andratese Ma arriva Dice Che la passa a Tia Che cerca un velo E si conclude qui l'azione del Real Sanfermo Occhio qui Perché c'è calcio d'angolo Per la squadra ospite Battuto in mezzo Facile Tra le braccia di Umbi Qui punizione Ancora per l'Andratese Che sta attaccando molto bene In questo inizio di primo tempo Lancio Punizione battuta dal 4 Corta Arriva Dome Che spizza La palla arriva a Tia Ne salta 1 Ancora Tia Che vince un altro contrasto Poteva andare Era liberissimo Ma l'arbitro non ha dato vantaggio Qui stoppo Vedo il buco Perucche Che la stoppa male E non riesce a calciare in porta Qui ancora Andratese in avanti Col loro numero 7 Che passa in mezzo a 2 Prova il tiro Dome Riesce a ribatterlo Quindi il 4 lo dà dalla distanza E ribatto anch'io questo tiro Quindi possiamo ripartire Con Dome Che la passa a Uc E qui Sia io che Dome Chiediamo l'appoggio Per poi mandare gli Uc In porta Ma non c'è stato Qui Colpo di testa Del numero 5 Uc Che viene steso giù Niente fallo per l'arbitro Quindi si gioca Ancora Andratese Col cambio gioco del numero 6 Sempre per il numero 7 Che viene fermato da Nico Ancora Nico Tia poi La palla esce Qui Occhio perché il portiere Ha una palla difficile Cerca di domesticarla La rinvia male Il Uc La mette giù Arrivo io da dietro Non mi vede E perde palla Quindi può ripartire l'Andratese Io rincorro l'avversario C'è anche Dome E poi viene fischiato fallo Da parte di Dome Sul loro numero 3 Infatti come vedete qui Pulizione lunghissima Ancora del numero 4 Ancora Tra le braccia Di Umbi Finora nessun pericolo Per Real Sanfermo Mentre per l'Andratese Occhio qui Calcio d'angolo Nico aggancia Non bene Come stavo dicendo Poche occasioni per ora Più nitide quelle per Real Sanfermo Ora vediamo qui Ma altra chiusura di Caste Che blocca il contropiede Dell'Andratese Qui Poi appunto Sul contrasto Si fa male il loro giocatore E poi Caste Va a chiedere scusa Qui Dome Cerca il tiro dalla distanza Che va fuori Non di molto Qui dice Cerca il filtrante Perucche Massa Quindi gliela ridà La palla arriva a me Cerco di farla rimbalzare Però poi non c'è nessuno E riescono a spazzare Nuovamente Qui Micce Vince il duello aereo Però la palla arriva all'undici Nico Non ha mai paura di niente Ancora Nico Che si prende questo fallo Con molta Molta esperienza Battuto in fretta Da Dome Per me che Questo è brutto fallo Dell'undici Che arriva in ritardo Poi chiede scusa Giustamente Ancora Nico Che scivola Però la palla È bella Dice Viene trattenuto Non ci arriva Chiede un fallo Ma Un fallo così Non te lo può dare Qui Ucche Sponda per me Prova il tiro al volo Arriva la pallatia Poi riesce a spazzare La difesa Dell'Andratese Però la palla ancora lì Armando Prova Ad allargare Palla Però non riesce Quindi occhio al contropiede Ma c'è ancora Casteraga Il muro Che ferma un altro contropiede Qui altro calcio d'angolo Dome riesce a spazzare Poi Tia La butta via E qui Tiro altissimo Da parte del loro numero 4 Però ci stava l'idea Per non far partire Il contropiede nostro Qui riesco a rubare palla all'undici Poi la palla arriva a Ucche Può partire il contropiede con Tia Ancora Tia Che da solo Punta l'uomo Ancora Tia Filtrante Che non passa Per Ucche Però E il portiere Spazza mal La palla ancora lì Dome cerca il cambio gioco Infatti poi Chiede scusa Ultime azioni Qui Del primo tempo Mi sono guadagnato La rimessa laterale Battuta dagli Ucche Per Dome Che deve solo Buttarla in porta E ormai E ormai Questa è una nostra Abilità Far gol Dalle rimesse laterali Perché abbiamo gente Che Al posto delle braccia Ha Dei fucili E niente 1-0 Squadra di casa Qui ancora L'Andratese Che cerca di attaccare Ma A Umbi Sono arrivati Pochi i tiri in porta Qui Luke Cerca Cambio gioco Era giusto Ma bellissima La chiusura Qui del difensore Dell'Andratese Però la palla Arriva Comunque A Tia Che poi Esce Ancora Realzanfermo Qui faccio La mia sovrapposizione Non mi vede Luke La mette in mezzo Però niente Di pericoloso Ancora che spazza Via la La difesa Dell'Andratese Poi con Massa Che riesce A gestire Per Mice Qui Andratese Che Devo dire Che Non lanciavano Quasi mai Comunque Provavano a giocare Da terra Questo bello Il passaggio Per il loro Numero 9 Che scatta Ancora una volta Il 9 Contro Umbi Bellissima parata Qua di Umbi La palla In calcio D'angolo Prima occasione Per l'Andratese Molto pericolosa Calcio d'angolo Battuto Qui il 7 Prova il tiro Ancora Facile Tra le braccia Di Umbi Bellissimo Colpo di genio Colpo di tacco Di Tia Per mandare Dice Che non riesce A tirare E poi la palla Si perde sul fondo Qui occhio Dome Perché Sbaglia il passaggio Arriva la palla 9 Che allarga benissimo Sul 7 Che è regolare Mamma mia Qui Umbi Fa un altro Paratone Qui occhio Perché il yuk Se ne va così Per massa Altro tunnel Armando Benissimo Bella azione Qui da parte Del Real Sanfermo Che ne esce bene Ancora Tia Che vede Un altro Filtrante Magico Per dice Il portiere Lascia sfilare Dice Non ci può arrivare E finisce E finisce così Il primo tempo Rientrano le squadre In campo 1-0 Per il Real Sanfermo Ci sono stati Dei cambi E' uscito Dice Ed è entrato Bordo Ed è E mi sembra Che è entrato Anche Fallu Al posto Di Mitch Qui andrà tesa Che parte subito Forte E Fallu Non riesce A leggere Il passaggio La palla Arriva al 10 Ma poi Arriva Umbi E spazza Via così Ora cerchiamo Di ripartire Noi Con questo lancio Lunghissimo Di massa Per Tia Che riesce Ad arrivare Palonetto Al portiere Vediamo se ci arriva Ancora Tia Colpo di testa Sul palo Non ci voglio Credere Qui intanto Fallu Prova il tiro Dalla distanza Ma che sfiga Ancora L'azione Di Tia Qui Riusciamo A recuperare Palla Con un bel Pressing Ancora Dome Che la palla Arriva A Ucke Guarda il portiere Prova il tiro Che gol Da parte Di Ucke Con questo tiro Da 25 metri Il portiere Non ci può Fare nulla Ed è 2 a 0 Real Sanfermo Si sblocca così Ucke Con questo bellissimo gol Qui Riesco a fare Il velo Per fallu L'avevo visto Quella coda dell'occhio Solo che Non mi aveva capito E non è riuscito Ad arrivare sul pallone Qui ancora fallu Perde il pallone Sul loro numero 10 Che riesce a entrare in area Ancora il 10 La mette in mezzo Casta Riesce a ribattere La palla non esce Rimane ancora lì Ancora il 10 Che riesce a metterla in mezzo Armando Chiusura spettacolare Sul loro numero 11 Che poteva tirare Qui palla lunga Per bordo Ed è da ribattere La punizione Andrà ancora Nico Lancio lunghissimo Prova ad arrivarci Per un soffio Non ci arrivo Con il piede destro Per il tapin Qua Armando Prova Cioè prova Ad allungare il pallone Qui Luke Salta benissimo L'uomo 3 a 0 Real Sanfermo Che chiudono così La partita Con questo bellissimo gol Da parte Di Luke In singolare Doppio passo Salta l'uomo E poi Rasoiata di destro Qui L'Andertese ancora Che prova l'attacco Lancio lungo Ancora Superato fallo Il 10 Che prova A metterla in mezzo Ma Niente di che E guadagniamo noi La palla Qui Occhio a Tia Che se ne va Benissimo Sono solo Non riesce a darmela Peccato Però era una bella idea Qui Ancora Real Sanfermo Con Ucchio Non mi vede Solo in mezzo libero L'appoggia dietro Per Luke Che Può Fare il cross Cambiare Cambiare gioco La palla Arrivale ancora lì Vengo steso Niente fallo Quindi si continua a giocare Fallu La recupera Poi riprendo Un altro fallo Dal limite Dell'area Qua punizione Pericolosa Che va Casti Mamma mia Pallone insidioso Per il portiere Che gli rimbalza Quasi praticamente Davanti Qua intanto Recupero un altro pallone Poi Il numero 11 Rialzandosi Tocca la palla Con il braccio Ed è Fallo Qui Altro lancio lungo Bordo Spizza di testa Per Tia Ancora Tia Stavolta Come prima Riesce A darmerla La stoppo Guardo il portiere Tiro Il portiere Con una mano Ragazzi Riesce a bloccare Il pallone Mamma mia Raga Quest'anno Sono tanto Tanto Sfigato Sottoporta Non è la prima Occasione Da gol Che ho avuto Quest'anno Ma non riesco Proprio A sbloccarmi Qui tanto L'Andratese Prende questo pallo Col numero 11 L'arbitro Ha dato vantaggio Poi Ha preso pallo L'Andratese Ha dato punizione Non ho capito La scelta Poi battuta Appunto dal 7 Ma Umbi Ha fatto una bellissima parata Ancora Qui Dome Guadagna Un altro Calcio di punizione Un altro calcio Piazzato Stavolta ancora Da più vicino E molto centrale E Andratia La fa girare Sulla barriera Il portiere Ancora Blocca in due Tempi Calcio d'angolo Che andrò A battere io Lungo Teso Per Casti L'aveva presa bene E poi Che prova il tiro Peccato Perché Casti Aveva fatto un bel tiro Poi il difensore È riuscito a deviare Qui prendo due calcetti E infatti Mi fermo E l'arbitro Mi dà fallo Casti Subito In velocità La palla Ribattuta Rimane lì Lotta io Lotta tra 3 e 3 E poi Qui Spalla contro spalla Non ero Non ero andato in modo cattivo Però Loro 3 si è arrabbiato Infatti qua Spiego all'arbitro Che io ero tranquillo Qui mi arriva ancora palla Numero Sull'8 Che poi mi stende E prendo Un altro calcio Di punizione Che poi Viene battuto Da Ucche Veloce Ancora io Mi fermo Appoggio per Ucche Ucche Guarda in mezzo La prova Prova il cross In mezzo Il portiere Non riesce a bloccare Ancora Tia La passa A Ziddi Che è appena entrato Prova il tiro Si dispera Bellissima occasione Ancora per il Sanfermo Qui Ricopriamo ancora palla Dome cerca di darmela Poi esce Fallu Lunghissimo Per Pisso Che è entrato anche lui Ziddi Che è parata Da parte del numero 1 Dell'Andratese Che salva ancora La sua squadra Per non prendere il quarto Con questo bellissimo Tiro di Ziddi Qua riesco a fermare Un attimo l'undici Castel riesce a spazzare La palla rimane lì Ma poi Il difensore Riesce ad allungare Al portiere Che poi Spazza via Qui Pisto Vede il filtrante Ziddi Per sbaglio L'alza Per Tia Che prova la mezza rovesciata Centrare Qui intanto C'è un fallo Per l'Andratese C'è il loro numero 7 a terra E il gesto mio di fair play Che Vado ovviamente a chiedere come sta E poi Lo aiuto ad alzarsi Ed è anche questo Il bello del calcio Qui ancora l'Andratese Che è in difficoltà Con Tia Che riesce a metterla giù Per Pisto Ancora Tia La liscia La palla rimane lì Ancora Luke Luke prova il tiro Cercava la doppietta personale Ma che esce Proprio di poco Però ancora Real Sanfermo Che non si ferma Luke la ribatte Per Dome in mezzo Qua non si vede Ma c'è il 4 a 0 Da parte di Dome Doppietta personale per lui Rasoiata di sinistro Nell'angolino E non ci può fare niente Stavolta il portiere qui Peccato che non si vede Però comunque È gol 4 a 0 Real Sanfermo Che chiude la partita così E infatti poi Raga mancano Penso 10-5 minuti Neanche E E niente Raga Qua occhio Perché mi faccio male È un crampo Quindi Niente di Di cattivo Diciamo Però Non riuscivo proprio a correre qui Infatti mi ritorna Guardate Però Meno male che mi sono Infortunato A fine partita Diciamo Qui Pisto Cerca un tiro Ancora al portiere E finisce così La partita Partita Finita 4 a 0 Per noi Direi Giocata anche Abbastanza bene Speriamo I risultati positivi Per la classifica E per noi Se vi è piaciuto il video Mettete like Commentate Iscrivetevi Seguitemi su Instagram Per qualsiasi novità E niente Ci vediamo alla prossima Partita Bella